Una domanda lecita è, vista l'assenza del contrappeso e vista l'assenza di frizioni con bloccaggi di qualche tipo, cosa accade se va via la corrente? Così come da specificato dal sito del costruttore, di fatto la montatura è libera di ruotare ma molto lentamente, quindi c'è la possibilità di una forma di inversione del moto in assenza di corrente elettrica. Adesso proviamo, vado a spegnere, la montatura piano piano scende, quindi se non va a sbattere non accade nulla di complicato, in qualunque caso non cade, come si rimette tensione il motore si blocca e torna operativa. Se la montatura viene lasciata priva di corrente in una posizione più equilibrata, come potrebbe essere questa, il levare corrente è praticamente ininfluente, almeno con questi carichi. ovviamente per carichi importanti è stata prevista una piccola filettatura dove applicare un asse con dei piccoli contrappesi per agevolare il lavoro oneroso che fanno questi piccoli ma potenti motori.